è la grande novità dell'anno Sur Libro e la cultura è sempre pronta in tavola finalmente posso leggere anch'io con Sur Libro Pippo Baudo, arlecchino servitore di due padroni Iva Zanitti, dove osano le aquine Eugenio Montale, seppie inumido e tanti altri capolavori della collezione Tele Gatti Berlusconi in regalo in tutte le confezioni di Sur Libro C'è più gusto a leggere un Sur Libro Sur Libro, un'idea editoriale di Arnoldo Berlusconi, editore